mercoledì 5 maggio 2021 inizia una fase storica per taranto qualche ora fa ha attraccato nel nostro porto la prima nave della msc crociere andiamo a vederla alle nostre spalle il castello aragonese e i primi turisti del gruppo della msc crociere che stanno visitando la nostra città stanno attraversando adesso il ponte girevole vedete alle mie spalle due gruppi di turisti che si incrociano uno va in un senso e uno va nell'altro dalla città vecchia verso il borgo e dal borgo verso la città vecchia diversi gruppi di turisti ne abbiamo contati almeno 8 gruppi vedete sono contrassegnati da un adesivo che hanno addosso diverse diverse le città di provenienza da dove viene milano piace taranto cosa avete visto? il mangio al tetto alla corrente e l'ammiragliato buon proseguimento e buona vacanza grazie la città è riempita piacevolmente da tanti turisti sono diverse centinaia di turisti divisi in piccoli gruppi che stanno visitando la nostra città in questo momento un gruppo alle nostre spalle davanti a palazzo calò uno dei luoghi simbolo della settimana santa di taranto tanti turisti tutti muniti di mascherina e dei dispositivi di sicurezza tanti colori di taranto tra questi sicuramente quelli dei balconi della città vecchia nel passare della città vecchia di taranto non potevamo non soffermarci un attimo davanti al duomo dedicato a san cataldo il cuore pulsante di questa città che vuole rinascere eccola alle mie spalle msc sea side una grande nave da crociera per la prima volta taranto è tappa di una crociera e anche porto d'imbarco signori oggi 5 maggio 2021 forse davvero il futuro di questa città sta cambiando